Questo video è la continua del video sul talento, il talent show, perché fa ridere paradossale questa cosa. Allora un cristiano si trova in crisi mistica esistenziale, non so cosa fare, ho fuscato, non so qual è la mia missione della vita, qual è il mio talento, come posso scoprire il mio talento? E va ad uno di quei corsi per scoprire il suo talento. Nel mentre magari si fa pure un finanziamento, lo pagare a rate o si fa dare i soldi ai genitori, se è ancora in famiglia, per scoprire il suo talento. Dopodiché si scopre che è portato per l'idraulico, fa l'idraulico, deve fare l'idraulico sto qui. Cioè ti vedo bene nel settore dell'idraulica, no? E lui dice ma come non ho mai capito di essere portato a fare l'idraulico. E si convince, sono portato a fare l'idraulico. Ho scoperto la mia missione di vita, no? E un po' come quei test che si fanno ai ragazzini alla fine della terza media per scoprire su cosa sono portati a fare, no? Ne azzecassero uno. Adesso non mi ricordo questo test, se si chiamava test di Elisa, ma non vorrei sbagliare. Insomma comunque uno di questi test che si fanno alla fine della terza media. Tutti sbagliati. Non ce n'è uno che viene azzeccato, insomma. E questo fa pensare perché infatti gente come Einstein, Beethoven, Mozart, Picasso hanno fatto tutti questa scuola, eh? Per scoprire il loro talento. Sono tutti ex corsisti.